Abbiamo la miniera che sta producendo ferro e bronzo Poi abbiamo lì in fondo grano, cavoli, slash meloni, quello che è Le mucche e pure i negozi che vendono Quindi abbiamo quattro, una, due, tre, quattro, cinque produzioni diverse E siamo ancora messi malissimo a livello di villaggio E abbiamo già cinque produzioni diverse che ci fanno fare i soldi Abbiamo delle guardie che difendono, delle mura per difenderci, un pozzo per l'acqua Cioè è bellissimo No, è bellissimo Però l'ha promosso a pieni voti E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E sono Steph e che si giochiamo a Roblox E oggi siamo su Kingdom Development Tecune E qui io lancio subito l'hashtag il Tecune migliore di sempre Lo dico già, lo dico già Hashtag il Tecune migliore di sempre Perché? Perché dovremmo costruire il nostro villaggio medievale Noi amiamo il medievale, cioè la nostra cosa preferita in assoluto a livello di ambientazione, a livello di tutto Quindi siamo troppo felice Questo lo dici tu Questo lo dici tu Questo lo dici tu Ok, va bene Guarda con cosa iniziamo Con gli agricoltori Ovviamente con gli agricoltori, giustamente Si parte così e guarda però cosa fanno Come se fosse il dropper di un Tecune Fanno i pezzetti di grano che vanno qua E credo che ci diano soldi in automatico però Eh, suppongo di sì Sì, 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 confermo 6, 7 Non ho bisogno di raccoglierli da nessuna parte Appena arriviamo a 10 ci prendiamo anche il secondo Noi saremo dei re buoni O no? Non lo so Non lo sai Allora, dipende tutto da come si comportano Ok Se abbiamo dei bravi villaggeri, dei bravi abitanti Noi li trattiamo bene Quindi se costruiscono una statua di signor maialino Li tratti bene Esatto Se invece mi fanno arrabbiare li sterminiamo No, no, aspetta Sterminare no Funzionano così i regni Ma non funziona così E allora perché siamo nel medioevo per fare le fatine, scusami Sì No Ma guarda come lavorano sodo, scusami Per ora, per ora, per ora Mi sembra che siano abbastanza bravi Guarda questo È proprio inforcando la La palla di pieno Bravissimo È molto bravo Sì, sì, bravo È il figlio dell'altro Tu mi piaci L'altro no Tu sì Quindi è già un punto in più Lo vuoi già promuovere? Sì, è già un punto in più Capo generale Sì, esatto Esatto Tuo padre magari è vecchio e non lavora più come una volta Mi dispiace Vabbè Ecco Ecco Quello di cui stavo parlando Io lo sapevo Guarda, ancora prima di iniziare Ancora prima di vederli Io l'avevo già previsto E poi dimmi che non devo essere la regina di sto posto Ma scusami Dimmi che non devo essere Cioè guarda Lui, tu lo vedi dormire Però di fatto guarda il grano che si muove Quindi lui anche da sdraiato mentre dorme riesce a lavorare Spostati Spostati Cosa stai per fare? No Lascialo Lo uccido Il consolino ci ha chiesto faccia da guardia Sì 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 Diggli sei la nostra guardia reale Assunto proprio Devi dirgli guardia reale Con la sua sciarpina è proprio a tema medievale per difendersi da qualunque bandito Spostati al medioevo c'era freddo Lui è più intelligente degli altri Se hai fatto la sciarpa è giusto che se la mette Mi fanno vedere che quando usano lo zainetto Non so perché mi fanno troppo ridere È bellino lo zainetto Perché è bellino il personaggio Capite? Allora 170 Quindi mi esce la nuova parte del grano Che comunque Ah no aspetta Ma questa volta è diverso? È oltretutto Sì è diverso Una piantagione I cavoli sono sicuramente Guarda I cabbage devono essere i cavoli Lo vedi? Sembra più un melone Sembra più un melone Però è un melone Non lo so Sembra un melone a me I banditi hanno ucciso il nostro consolino Guarda 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 Questo è un assalto ai banditi Andiamo alla carica Ma le guardie sono le nostre Alla carica Aia Aia Sono fortissimi Vado Proteggerò il mio radio Le guardie comunque sono quelle che abbiamo comprato noi Allora Allora Sì Io ho fatto fuori tutti ovviamente Ma questa era una cosa che già si sapeva Io vorrei notare le guardie Erano davvero le nostre Perché erano i più scarsi Sì sì erano le nostre Facevano schifo Facevano totalmente schifo Vabbè sono le prime guardie E' tornato il consolino Che sta in vendo con parole che non si possono ripetere contro i banditi Io te lo dico E' molto arrabbiato eh E' molto arrabbiato Guarda E' comparso un altro valido lavoratore Sì Che lavora sui cavoli Anche tu mi piace Perché stai proprio Guarda E' anche felice di lavorare Meglio di così E' felice di lavorare Calmati Calmo Allora Io ho appurato che quella sua spada ti uccida in un colpo Ok Quindi non sfuggere la tua Perché così Capito Capisce che noi siamo in pace Ok Ok io mi muovo così con calma Allora Costruisco il magazzino Ok Che è comparso lì in fondo Eh vabbè Alla vista la scia Mamma mia Cioè mi ha tolto tre quarti di vita Guarda Oh che bello Oh che bello questo posto No Oh questa è casa mia No 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 Con 500 posso comprare le mucche Billy Billy Questo sarà il ritorno di Billy Torna Billy Finalmente Billy che appare anche su Roblox Oh mio dio Sei felice Assolutamente Eh Sono emozionato Allora Io stavo guardando una cosa Ma il magazzino dov'è? Qua Ah eccolo Non lo vedo È bellissimo È carino sì Sì Allora cosa c'è? Allora puoi fare l'Hermory Foundation Poi il Barracks Foundation e la Towers E le torri Vediamo una torre Ah eccola Eccola una torre di vedetta qui Che bellina Ci si può salire secondo te? Eh No Forse no Però ci potrei salire con la molla Perché ho visto che quello lì ha la molla Per saltare Penso che alla fine arriverai ad avere proprio molte armi Molte armi I soldi si fanno davvero lentamente Siamo un villaggio povero Finalmente ho trovato un take one In cui mi posso sentire a casa In cui posso Capito? Sì Sfoggiare tutte le mie abilità di comandante La sempre che nel Medioevo Di regina Di combattente anche Capito? Se vuoi posso continuare Ti posso dire una cosa? Dimmi Nel Medioevo non esistevano i dolci Sì che esistevano No E invece sì Assolutamente no Se tu che non sei bene le cose Certo che esistevano Non esistevano i dolci Certo che esistano C'è il grano Ci sono le verdure Si possono fare le torte Scusami No 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 Certo che si possono fare Fai una torta di mele Dimmi che sono difficili Gli ingredienti Sovere Niki Oh mio Dio Ma non Allora Billy è un po' più scuro Come stai oggi? Si è fatto anche un piercing Nel frattempo Sono un po' stordito Si è fatto Il viaggio tra Minecraft e Roblox Mi ha stordito un po' Ti ha un po' anche schiarito il pelo Posare qualche minuto E poi torno La prossima costa Mille Mille Che è un po' troppo Anche la mucca Credo che porti i soldi Infatti lo stai dicendo Oh guarda infatti Vieni qua Vieni qua Eh l'ho già visto Però costa 5 mila No 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 Vieni l'ho già visto Praticamente arriva un secchio di latte Che cade qua Guardalo Oh sì l'ho visto Ecco perché fai soldi Perché giustamente fai latte Hai visto? Sì Quindi soldi pure qua Bravo Billy Bravissimo Billy Finalmente sei diventato utile Dai finalmente ho trovato il tuo posto nel mondo Tieni questo Guarda gli ho dato la vaschetta con l'acqua Oh che carino Grazie Steff Tu mi tratti sempre bene A differenza di Ferenichi Allora lo sai che nel Medioevo Le mucche servivano Servivano non solo per il latte Ma anche per la carne Caro Billy Io non vorrei dire Però bisognava anche Ovviamente mangiare carne per nutrirsi No Giusto Per dirne una No assolutamente no Io non vorrei Billy Che tu fratendessi Billy ti sta raccontando Una storia sbagliata Guardiamoci capiamoci No no Stai proprio dicendo delle cose che non sono vere Quindi stai tranquillo Billy Allora Guarda cosa ti compro Boom Eh le prime mura Sì Nostro villaggio Oh belle grandi però Eh sì Eh sì Eh beh Nostro villaggio inizia a prendere forma Ti farei notare che abbiamo scelto Billy E i campi agricoli fuori dalle mura Poverini Abbiamo un negozietto che vende un sacco di articoli Sì li hai viste la monetina che passa? Sempre a Muddy Dropper Sì 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 Allora cosa ci vende? Oh hai visto che è la bevanda dei pirati? No no Non ha quello che tu stai per vedere Togliti No Che cos'ha? No Che cosa c'è? Niente Nulla La corona La corona No non è quello E che cosa? Dai Più sotto Ah io non le vedo Ah ok Le vedo solo dal tuo sch... Vedi c'è un complotto contro di me che non mi fa vedere i dolci Comunque Sì Io ti farei notare una cosa Che ti ho appena... Ti ho proprio detto La torta di mela si poteva fare E quella è esattamente una torta di mele Quindi chi è l'esperto qui del Medioevo? Scusami eh Chi è che si merita di essere la regina di questo posto? Guarda 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 Forse questo ci porta soldi Il Dig Mineshaft Che credo sia una miniera Sì Sì Aspetta che arrivo? Sì Sì C'era un po' di guerra lì da Billy Ci sono dei bambini Guarda 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 Vieni 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 Questo è davvero interessante Ok Cosa succede? Ah ok Arriva proprio i pezzi di ferro da lì Pensavo di poterci entrare Stavo già andando a minare E quindi secondo me Già anche la miniera porta un sacco di soldi E noi l'avamo messa Sì sì Adesso per 600 metto anche a fare Cioè quindi Allora voglio ricapitolare un po' Perché Secondo me c'è un gran caos Da quante cose ci sono Perché è proprio Incredibile Cioè Ha un sacco di cose È diverso dai tecun convenzionali Per fortuna Eh esatto Sì che un po' stanno stancando Insomma Diciamo che è molto più punta Alla costruzione Di un vero e proprio villaggio Sì Di una vera e propria fattoria Che funzioni Che sia efficiente Capito? È molto diverso Quindi E vi piace un sacco Allora abbiamo la miniera Che sta producendo Sì Ferro e bronzo Poi abbiamo Lì in fondo Grano Cavoli Slash meloni Quello che è Le mucche E pure i negozi Che vendono Quindi abbiamo Quattro Una Due Tre Quattro Cinque Produzioni diverse E siamo ancora Messi malissimo A livello di villaggio E abbiamo già Cinque produzioni diverse Che ci fanno fare i soldi Abbiamo delle guardie Che difendono Delle mura Per difenderci Un pozzo per l'acqua Cioè è bellissimo No è bellissimo Per ora promosso Pieni voti E mi piace tantissimo Che i droppers Siano proprio totalmente A tema medievale Cioè che ogni cosa È funzionale Per la riuscita del villaggio È bellissimo È bellissimo Secondo negozio Che costa 600 Eh ma lei vende cose bellissime Cos'è E questo vende un polletto Un polletto Buono E qua c'è la corona del re Hai visto E anche un'altra corona più brutta 2500 Allora partiamo dallo smelter Ok Ok Ecco Ecco L'ingotto di ferro Suppongo Poi c'è la forge Che costa 2000 Quindi per ora rimane lì Guarda cosa ti compro Boom Cos'è Non l'hai visto? No Qui Ah sì Oh mamma mia Il portone Sì Che apri No vabbè Di solito E poi chiudi Sono solo delle righine I portoni Invece questo è un vero e proprio portone Che si apre e si chiude Meravigliosa Appunto Non ho altro da dire Io sono totalmente inamorato in questa mappa Poi vediamo un pochettino Armory walls Dopodiché Armory roof Perfetto No vabbè C'è la porta Vabbè Cosa? Queste sono tutte armi per noi E anche pozioni Siamo nel medioevo Allora Siamo nel medioevo Ta Etta Ho comprato un po' di forzieri E un po' di luci Hashtag il take un più bello di sempre Hashtag il take un più lento di sempre E vabbè E vabbè Quello non si può sapere prima Non ci si può fare Già Allora Pazienza Pazienza Pompiamoci il nuovo negozietto Quindi guarda che è proprio diventato un vero e proprio mercatino Sì Sì assolutamente Molto fantastico Poi guarda cosa ho costruito qua Allora Praticamente ho aggiunto il fabbro che lavora e crea delle spade senotti Sì Che sono bellissime Bravissimo Aspetta che qua c'è il workbench Lo compro Costa 3500 Ce lo possiamo permettere Perfetto Magari aumenta E anche la greenstone Perfetto Magari aumenta i soldi che facciamo Esatto assolutamente Poi vieni qua Vieni qua Guardate Questo qua è il negozio del fabbro che infatti ha pure l'insegna Si entra dalla porta classica E c'è una persona che vende le spade che il fabbro fa lì fuori E giustamente Sì Mi sembra tutto perfetto Perfetto Mi sembra tutto perfetto Però bastarmi per almeno finire tutte le mura Non sono sicuro che riusciremo a finire tutto 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 Perché vedo cose da tipo 60.000 Che è tipo il race the flag of victory Ah ok Bello Bellissimo Bellissimo questo Adesso ci possiamo camminare sopra E giustamente Questa è la cosa più giusta Certo che ci deve essere Guarda anche qui Cosa c'è? Aspetta Aspetta Sto andando al contrario Sto in alto E' proprio la torre di vedetta super alta Bellissima Qua ci metti gli arcedi di clash royal Certo Giustamente Sì Gli arcedi stanno sempre nelle torri Prontissimi Vieni là a spaccare tutti Poi 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 Allora a parte che c'è un assalto dei banditti Che non mi piace niente niente Scusa bandito Ti spiego un attimo Cosa succede adesso Che ti prendo e ti spacco la faccia Vieni qui State cercando di rubarci i soldi? Ci sono le guardie Non dovresti farlo tu Stanno schiattando le guardie Non vorrei dire Io te l'ho detto che sono inutile Non servono a niente Ci pensa il restef Keep foundation Vai Ok Cosa sarebbe? Non lo so Ma sembra tipo il castello Eh forse sì 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 Penso proprio di sì Eh vabbè Ma enorme dentro Ma tu non hai idea qua tutto c'è Ma c'è anche roba Madonna Ho visto solo due tasti aspetta No solo due Solo due Quanto dobbiamo stare qui dentro? Spiegami Mille anni Ma non è possibile Come nel medioevo Mille anni Picnic Davvero eh Sì è molto realistico È molto realistico Ci sono i tavoli da picnic A fianco a dove ti eserciti Prendo anche le forniture Oh mio Dio Oh vabbè qua ci si siede Guarda la tavola Bellissimo Le luci Qua per decidere i pieni di guerra Mi sembra giusto dentro il castello Seguimi Seguimi C'è di meglio C'è di meglio C'è il trono No il trono costa 10.000 C'è il trono però Eh non me lo posso permettere Qua tu sali da queste scale Oh mio Dio E c'è il mio posto speciale diciamo Chiamiamolo così Eh infatti non posso entrare Ancora meglio No vabbè Vabbè aspetta Te lo faccio vedere Sì fammolo vedere Guarda No fantastico Guarda È proprio la tua stanza privata Bellissimo Tavolini Tavolini Dove mi preparo Con tanto di specchio Letto Con forziere Dove ci sono un sacco di soldi Che tu non potrai mai avere Adesso abbiamo le guardie Che stanno dentro le mura Che ci difendono Se qualcuno prova Ad utilizzare le armi Ad attaccare Sono cattivissime Non puoi provare a usare nulla Che ti sterminano Proprio in una maniera incredibile Lo so Lo so Poi guarda come è diventato Il mio castello personale Con le mura ancora più alte Sono bellissime E infine è il momento Di comprare il trono È il momento Oh che bello Vai Oh ma è bellissimo Togliti Togliti Questo trono è mio Questo Questo trono è mio Il mio trono Questo trono è mio Tu non sei Che è successo? Che è successo? Ti ho fatto volare fuori Dalla mia Dalla mappa? Sì Con il mio potere Sì Adesso il trono è mio Vedi mi sembra giusto Adesso prendo e mi ci siedo io Sei felice adesso? Molto Molto Le cose sono andate come dovevano andare Mi sembra giustissimo Questo finale Mi hai flippato il gioco Ho una proposta da farti Dimmi dimmi Ok Te la sparo proprio secca Così vai E diretta Allora Visto che è impossibile finire tutto Prima di tutto perché Ci sono tutte le armi da comprare Dentro i vari Nego Nego Edifici Edifici dai C'è la bandiera da 55 mila Ci sono questi che potete Prendere soltanto se avete il badge Quindi degli obiettivi fatti Che sinceramente non ho neanche idea di come si facciano Esatto Quindi io pensavo Facciamo così Se piace molto la mappa Quindi se va bene di views Se va bene con i likes Se va bene nei commenti Quindi se piace molto come è piaciuta a noi Faremo un secondo video Dove Ognuno avrà il suo regno Combatteremo tra di noi Sì mi piace E lo finiremo completamente Assolutamente sì Bella questa proposta Ti piace? Così almeno una volta per tutte si vedrà chi è che è degno del trono Esatto Sembra giusto Il vincitore sarà quello che riuscirà a sedersi nel trono dell'altro Ok Ti piace? Sì mi piace Anche se con tutte quelle guardie sarà davvero complicato Lo so Perché guarda come sono Però magari ci saranno armi molto potenti E riesce a sterminarle Esattamente Quindi fateci sapere nei commenti Dimmi Stavo finendo la frase Ok non avevo capito Continua Vai Quindi fateci sapere nei commenti Se volete vedere appunto il secondo episodio Nel caso lasciateci tanti likes E ci fermiamo così Sperando che vi sia piaciuto tantissimo Come a noi Spero che siete riusciti Se ci lasciateci un bel like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao